Lo avevamo anticipato tre mesi fa. A causa dell'indisponibilità dell'impianto di verde acqua nessuna prova dei mondiali di pattinaggio si svolgerà nel capoluogo di regione. Il mondiale dei mondiali porterà in quattro regioni italiane 12 discipline in un unico grande evento che assegnerà 156 titoli. Le prove dei mondiali di pattinaggio interesseranno tutto l'Abruzzo nel periodo che va da giovedì 29 agosto a domenica 22 settembre. Nell'arco di queste settimane si svilupperà il calendario di hockey in linea Roccaraso. A Chieti ci saranno le prove di slalom in linea mentre Montesilvano ospiterà le prove di roller derby. A Pescara ci sarà la prova dei 100 metri di velocità su pista mentre a Sulmona ci saranno le prove di velocità su strada. Un circuito ricavato tra Montesilvano, Pescara e Francavilla è stato scelto per la Maratona mentre a Tortoreto sono previste le gare di discesa su pattini in linea e skateboard. E l'Aquila? Niente. Il motivo è da cercare nella tempistica dei lavori pianificati per l'impianto di verde acqua appunto posizionato nel quartiere di Santa Barbara. Lo stesso impianto è oggetto di lavori per la copertura della pista di pattinaggio. Lavori che devono essere fatti per non perdere i finanziamenti ottenuti. I lavori devono terminare entro e non oltre il mese di settembre di quest'anno. Terminata la copertura poi si potrà procedere con i lavori di realizzazione della pista. Così facendo l'Aquila è rimasta fuori tempo massimo perché i mondiali di pattinaggio avevano bisogno di tempistiche certe. Così facendo l'Aquila è rimasta a bocca asciutta.